Ecco la nuova giunta regionale della Toscana, riunita per la prima volta alla Villa Medicia di Careggia, Firenze. Qui il presidente Eugenio Gianni ha reso note le deleghe attribuite agli otto assessori, quattro uomini e quattro donne, della sua squadra, annunciando che manterrà per sé quelle allo sport, alla cultura e al bilancio. Queste le deleghe attribuite ai sei assessori del Partito Democratico, a Simone Bezzini, come anticipato da Gianni in Consiglio regionale, le deleghe a Sanità e Salute, ad Alessandra Nardini, istruzione, università, ricerca, politiche di genere e formazione, a Moni a Moni, ambiente, economia circolare e protezione civile, a Stefano Ciuffo, semplificazione, informatica, sicurezza e immigrazione, a Stefano Baccelli, infrastrutture, trasporti e governo del territorio, a Leonardo Marras, attività produttive, economia, credito, turismo e lavoro, a Serena Spinelli, di sinistra, civica e ecologista, vanno sociale, edilizia, residenziale pubblica e cooperazione internazionale. Stefania Saccardi, di Italia Viva ed ex assessore alla sanità nella precedente legislatura, è vicepresidente della Giunta, con deleghe ad agroalimentare, caccia, pesca e aree interne. Ai nuovi assessori il presidente Gianni ha rivolto il suo auspicio per i prossimi cinque anni. Riuscire a dare capacità di governo a questa regione meravigliosa, con uno spirito collettivo che faccia sempre anteporre, io per primo, il noi all'io e questo portando alla realizzazione massima di quello che ieri abbiamo provato in consiglio nel programma che ho presentato. Alla Toscana di essere sempre quella regione che è così attrattiva nel mondo da essere la regione italiana, fra le 20 più conosciute a livello internazionale e di trovare presto l'equilibrio fra la gestione dell'emergenza sanitaria e di quella economica e con risorse, capacità di lavoro, superamento della fase covid, quella prosperità, quel benessere, quella capacità virtuosa di far rifunzionare il volano dell'economia. Il presidente Gianni ha anche confermato la nomina come consiglieri delegati di Jacopo Melio e Giacomo Bugliani e di Gianni Anselmi del Partito Democratico come sottosegretario alla presidenza della Giunta, come già avvenuto in Emilia-Romagna, non prima però dell'approvazione di una specifica legge regionale.